Roma per il bello e il cattivo tempo, queste splendide signore accompagnate da questo giovine sono in scena fino al 28 febbraio qui al Teatro Roma con questo spettacolo che si chiama Tutto per l'Ola. Vedemi un po', chi di voi mi vuole parlare un pochino, proprio un accenno della trama? Facciamo che... Lei è Monica Guazzini che se lo stanno... No, 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 parla la nostra capo comica, capo mignota, capo mignota No, quello è l'argomento e quello, non ci scandalizzare No, anzi Perché siamo appunto quattro ex prostitute e io ero la capa delle prostitute che gestivo questo bordello è uno spettacolo dove ci si diverte tanto e si pensa anche, cioè non è così banale insomma è uno... quindi io gestivo questa casa con queste altre splendide ex prostitute Lucia Ricalzone, Carla, Lorenza Guerrieri, Livia Livia e Monica Guazzini, Luisa, io Esther, beh anche per il nome, vedi, Esther è un'altra storia Parliamoci chiaro ragazzi Sono biblica Sono biblica La regia di Silvio Giordani, con cui siamo stati benissimo Ci siamo tanto divertiti Oh, ma c'è stato il commissario Scusi commissario, l'avevo dimenticato Il commissario appunto Geremia Mascio, vero Geremia Longobardi Allora io sono curiosa Bardo Vabbè, commissario Scusi commissario Ecco qua Deve essere tosta lavorare con tutte queste donne Sì, sì Ma è super restaurato, credo All'inizio delle prove è un grande senso di protezione che è vicendevole che ho io nei loro confronti È vero, è vero Devo dire ci dava una grande forza Ogni volta Tantant Siete le più brave Poi è un infame, eh Viene da me e tu sei la numero uno Va da lei e tu sei la numero uno È un po' puttano A tutti dice che lo sei la numero uno E' preso in giro Lo sai di John Greenwood Cosa fece? Che andò a ringraziare gli attori Non so quale spettacolo The best The best The best Il bagno The best Allora io direi Tutto per loro Brava la mia Lorenza Teatro Roma fino al 28 febbraio Sì, vi aspettiamo numerosi Si ride, si ride tanto Scritta da Roberta La schera è un'autrice Brammatosa Fantastica E il nostro Silvio Giordani Che è fantastico Bene Il regista Grazie mille Ah le musiche, le musiche Eugenio D'Arcitano Sono delle musiche bellissime Quindi produzione proprio per questo spettacolo Sì, sì Fanta Produzione Planet Insieme io con il mio compagno Gabriele Pianese Se non si offende Se non si offende Diciamoglielo Grazie Grazie